come si fa? devi infilarlo e poi tirarlo fuori, poi lo rinforzano make up, adesso posso scorreggiare di bella, faria una cagata dai, dopo? cioè, dimmi la manete è tutto a posto cioè ragazzi, cioè, non è impossibile, filmare con questa è impossibile, è sempre io parlare bella giornata, la valle, la nebbiolina giusta ci stiamo avviando verso l'ingresso della grotta Cesare Battisti ok, pronti per tentare un solito volgare mi sembra io il giallino, il giallino solitario sta andando Luca? oh yeah buono and always broke, not that we ever came not that we ever came a well, I'll hold you on si va qua welcome to London town eccoci qua but when you're new to it all and you think you're hot you're not planning on hanging around Oh, come se non c'è? eh, ah oh uh oh quella qui sotto quella lì qua si entra va beh, non è che c'è nessun di peso ecco se nonassi che va di prompieto di metterli arelli sino un' alminiatura è pronta è pronto No, no, no. Grazie a tutti. 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 Ottimo. Ottimo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.